Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui dal final table del Poker Live Adventure nel salve del casino di Porto Maso. Come vedete sei giocatori ancora al tavolo quando abbiamo iniziato da nemmeno un giugno, quindi avvio sicuramente al blu di cotone come d'altronde già si poteva prevedere visto gli stacchi in gioco. Come abbiamo anticipato sul forum la struttura è stata leggermente modificata, infatti abbiamo un riavvio del torneo a 20.000-40.000 con l'altro 5.000. Si proseguirà poi fino al raggiungimento di 60.000-120.000 come livello di bui, dopodiché i bui non superranno più aumenti, quindi si prevede un aumento della giocabilità verso le fasi finali del tavolo. Noi ci diamo fondamentalmente ai prossimi aggiornamenti video e come sempre sul forum per la cronaca live dell'evento. Ciao a tutti! Grazie a tutti!